Eder, Mech, Pallister È stato con grande tristezza e sgomento che a seguito di una settimana di ricerche senza sosta è stato rinvenuto il corpo senza vita di Claudio Cardillo, il 19enne di Albenga, scomparso domenica 1 ottobre. Il ritrovamento è avvenuto nella galleria ferroviaria che collega Albenga e Alassio, a Vadino. Al momento l'ipotesi più plausibile porta a un gesto volontario, ma le indagini dei carabinieri sono ancora in corso per ricostruire in maniera esatta la dinamica di quanto accaduto. Un uomo di 65 anni è scomparso intorno alle 18 nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre, nella zona di Capanne di Roca-Porena, nel comune di Cascia. I vigili del fuoco di Norcia stanno operando sul posto con un drone, un elicottero e un gruppo cinofilo. Così come il servizio alpino speleologico dell'Umbria, con il loro gruppo cinofilo, la protezione civile, i carabinieri e i carabinieri forestali e vari volontari. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Eri, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Eri, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Grazie.